Il Mugello è proprio il terreno dal quale i medici nascono e quindi è una grande occasione per noi di aprire la mostra dedicata alla linea del Cinquecento dei Medici qui a Scarperia con dei ritratti tra cui alcuni anche abbastanza famosi di Cosimo I e l'Onora da Toledo e anche di Francesco I e la sua amante poi moglie Bianca Capello. Quindi abbiamo proprio in questo affascinante contesto architettonico ma soprattutto nel terreno che era così caro ai medici dove tornarono attraverso i secoli ancora nel Seicento, inizio Settecento, di avere una presenza dei volti dei medici che hanno reso famosa questa famiglia in tutto il mondo. Grazie a tutti.